Ci sono ancora tanti timori per i lavoratori del petrochimico di Brindisi. L'annuncio riguardante la decisione del gruppo Eni di chiudere il cracking ha generato tensioni per un possibile abbandono dello stabilimento brindisino. Timori che alla luce delle dichiarazioni fatte proprio dai vertici Eni e Versalis sarebbero ingiustificati. A Brindisi infatti per il futuro si sta pensando di realizzare un impianto per il recupero della plastica ma soprattutto una gigafactory per la produzione di batterie da utilizzare per l'accumulo di energia, il che potrebbe comportare a regime addirittura una crescita occupazionale. Proprio stamattina però si scopre che il nuovo impianto verrebbe realizzato non direttamente dall'Eni ma da una società compartecipata fra Eni e la serie Industrial. Si tratta della stessa società che entrerà a far parte del Tim per il salvataggio di industria italiana Autobus insieme a un partner cinese. E poi la notizia pubblicata dal Corriere della Sera relativa alla crisi finanziaria della svedese Northworld, la prima azienda in Europa ad aver realizzato proprio una gigafactory di batterie impiegando 1600 lavoratori il cui futuro adesso è diventato a rischio. Il tutto provocato dal mancato decollo della mobilità attraverso l'elettricità. Se ne parla ovunque, ne hanno fatto tutti una bandiera in campo ambientale ma proprio non si riesce a intravedere un futuro roseo per il settore. In tutto proprio a causa dei prezzi altissimi delle batterie. Ebbene, nascono proprio da qui le perplessità sul futuro di Brindisi e del suo petrochimico ed ovviamente tutti si augurano di essere smentiti dai fatti, ma le premesse, e inutile negarlo, non sono delle migliori.